Successo ritrovato ed ultimo posto abbandonato, tutto ad un sorso, tutto, dopo il triplice fischio del match contro la Casertana. La Vibonese non è più la cenerentola del torneo. In una delle partite chiave della stagione e più difficili, in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa, la squadra di Salvatore Campilongo spezza il digiuno in campionato e dopo dieci partite e dieci mette in cassaforte tre punti pesantissimi, lasciandosi dietro le spalle il Melfi. Eroi di giornata, le nuove bocche di fuoco a disposizione del tecnico rosso-blu, Sowë e Piroska. Il primo riprende la squadra della Reggio dopo il timbro di Raicic. Il secondo completa la remuntada, tutto in poco più di 30 minuti. Poi solo il rosso a viola e le tante discutibili decisioni dell'arbitro, che penalizzano la Vibonese, rianimano la Casertana, ma non cambiano la sostanza, quella che al suono del gong premie rosso-blu, quella che contava per la salvezza. C'è anche la Vibonese, alle sue buon passo, per la CNews24.